Primo giorno del mese di dicembre ben ritrovati questo l'appuntamento con il nostro oroscopo del giorno. Vediamo subito la riete, giornata discreta da affrontare con energia. Toro, non prendetevela per questioni di poco conto. Gemelli, canalizzate le vostre energie nel modo più opportuno e cancro regalatevi qualche momento di relax in più che non guasta. Per il leone sarete dinamici, attivi soprattutto in campo professionale. Vergine, organizzate con calma e serenità il lavoro giornaliero. Siamo alla bilancia, sarete discretamente favoriti dalle stelle quindi approfittatene, approfittatene almeno per oggi. Scorpione, affrontate con calma un imprevisto e cercherete quindi in questo modo di risolverlo. Sagittario, vi sentirete in forma smagliante per tutto il giorno. Capricorno, dovrete fare di tutto per controllare un'irritazione di fondo. Acquario, le stelle vi saranno amiche in ogni campo, in ogni attività. Pesci, e qui concludo, prendete le cose con filosofia e calma, quindi la parola d'ordine è relax. Mi fermo qui anche per oggi con l'oroscopo, questo oroscopo del primo dicembre che se ne va a domani per nuovi consigli delle stelle.